musica bella a tutti ragazzi qui Wolf e Jacopo Mii venuti in questo nuovo video e adesso siamo su Scriven House Unlimited ecco notare questo gioco non so come lo vedrete voi nel video ma da noi è una merda perché per registrarlo dobbiamo usare una risoluzione un po' bassa poi magari anche nel video verrà fuori uno schifo ma tanto non c'è da stupirsi quindi facciamo inizia allora è la prima volta che abbiamo un gioco quindi c'è tutta la storiella schifo che noi si desiderano ignorare grazie poi inizia la nostra storia ricordiamolo che gioca gioca Jacopo Mii ma tanto l'importante è che questo gioco non è che ha i comandi ma chi ha la genialata vedi al fatto che si vabbè adesso c'è la rottura del fatto che dobbiamo seguire quello che dice voi quindi la prima parte sarà un pochino noiosa però vabbè insomma perché non possiamo far niente se non quel che dice lui dobbiamo fare cos'è che dobbiamo fare questo blocco appunto trasformare il maiale in un maiale pluripremiato qualcosa per pulire il maiale allora ci vuole non so acido non possiamo per ora non si può perché è il primo pezzo quindi attualmente purtroppo no ma poi finito il pezzo del fattore poi vedi il maiale che vuole il fattore allora ricca Max che palle facevo meglio non cancellare i dati di quando aveva giocato Stefani Klaus maiale rendilo più grande beh è un cacchio l'originalità grande aspetta scrivi oggettivi grande no può scrivi Max si Max non lo prendo facciamo grande e buonanotte tanto tanto non possiamo far niente clicca il maiale più bisogno del suggerimento bravo crea un oggetto Ali questo qui tanto l'avete già visto in tutti ah già Ali è enorme perché qua c'è una differenza perché qua c'è una grossa differenza Ali enorme brutte giusto non gli piace brutte scusate ragazzi la perdita di tempo Ali enorme ok mettilo dentro questo Ali enorme eh vabbè ma queste qua ve lo ricordiamo e scrive il mouse quindi non c'è da stupirsi prendi le ali ozaino magico trascinale vabbè così già che ci siamo vedete anche qualche comando o basi come funziona il gioco ma tanto speriamo che bla 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 speriamo che faccia in fretta perché mi sto annoiando così quasi poi velocizziamo tutto il pezzo del video qua facendo un mob allora qua ma qua qua ci fai cioè questo qua cos'è che è ma si è un criccio il maiale più bello ma si ma cazzo qua ma cazzo qua ma cazzo qua ma si ma ma si ma qua perché credi che si chiami fattore quello che mi scusa oh abbiamo completato le basi adesso si se non ricordo male possiamo iniziare a far quel cacchio che ci pare allora ok qua ah già qua c'è ancora tutto lo schifo usiamo delle tasta right che noi pronunciamo star it ma uguale aiuta il seme a crescere eh che seme aiuta il seme a crescere usa blocco che è un oggetto no piatto uffa non possiamo ancora far tutto quel che voglio a noi vabbè incontriamoci da scena tanto non è che che spiga vabbè abbiamo già perso il primo livello ragazzi gli voglio andare i frammenti resetta il livello per il pistino stato originario e tutti gli oggetti e la bla bla a chi se ne frega eh no dobbiamo farlo perché dobbiamo farlo perché abbiamo perso l'opportunità per guadagnare uno star right se lo vai sì 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 adesso comunque io lo io lo verò e lui e jacopo mi userà può creare molte cose la vulgarità materiale col petto del diritto autore noi proprio non sono consentiti ok allora vediamo qual è il problema mia gattina è bloccata su un albero salva la è che è un oggetto cosa ci vuole allora secondo te ascensore ascensore posso già immaginare vediamo è proprio un ascensorissimo wolf ma faccio notare che i comandi c'è wolf sai com'è che si deve mettilo lì vediamo posso immaginare interagisci no 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 intanto scende un attimo che adesso risale sta salendo ma cacchio ma stava salendo raccogli eh mi dispiace faccio notare che c'è wolf fa i comandi allora facciamo no eh cos'è sta cosa ma sai cos'è che stai facendo dai c'è a stare che oggetto senti wolf per favore scusa ce la fa salendo ma cazzo wolf basta per favore divi il protettivo molto ma cosa ma dai ci è arrivato ma no ma fa schifo in questo caso secondo me allora questo qua è il primo livello faccio notare pompiere no eh pompinaro ma dai pompinaro ecco problema risolto problema proprio risolto eh il pompiere qua cos'è che vuole si vabbè prendi l'autobus bla 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 eh stavo giocando ok qua c'è la fermata dell'autobus cosa c'è dai fai sull'autobus allora adesso siamo alla capitale si ma come mai già devi sempre schiacciarmi le cuffie oh non lo so io com'è che funziona poi io sono qua incastrato voi non lo sapete ma wolf si prende tutto lo spazio per sé che non ci sta niente qual'è che vuole allora ti diamo la super modalità qua c'è il bambino c'è il bambino fammi divertire aggiunge aggettivo divertito no ok invisibile invisibile vai vediamo com'è è divertito ma non è ancora divertito ah perché vediamo un oggetto si va bene come può servire per dire un clown un clown no mi sa che è protetta dai diritti d'autore una pasta bignetta buona non è divertito no aspetta fai che appunti un clown un clown no aspetta console gioco no gioco ma vai il tronco e il bignino che tronco che sei no fai ancora console ma fia di me gioco non è necessario che usissi il mouse sia la tassino ma allora fai schifo vabbè sei cod claude toglia dai dove passa tutta sta roba vabbè la macchina cosa allora vediamo la macchina ho parcheggiato dove non dovrei so io come risolvere il problema il problema è questo cartello invisibile proprio così non è più il divieto di sosta no ma non sembra no allora lo schiaccia sulla macchina cos'è non c'è un aggettivo ah aspetta vediamo un po' boom eh eh vai allora boom ah dolciume dolciume non hai ancora capito che devi metterla fuori cos'è sto scarabbeo qua che schifo lo scarappone buon problema risolto no senti facciamo la cosa a questo punto che io sappia se fai il carattrezzi non va lo so per esperienza no ma scusa ma da me non andava devi metterlo sopra che ha reterno tanto puoi adesso devi collegare che ha reterno se fai proprio il ferro a questo gioco dovrebbe prenderlo no perché perché non funziona così scriverlo si è staccata anche la catena per favore butta via quel coso chiediamo i carabinieri a questo punto quindi eccolo qua la Wolf ma sei più sdroggeggiati di Gianni polizia perché è arrivato ma che c***o io ho lanciato a nasso il blocco degli appunti aspetta entra qua che c'è il no devi così che schifo santo asterisco è l'ospedale a me piace un casino io so tutto sull'ospedale ma che c***o allora faccio uguale il meccanico me fidanz meccanico proprio ne sono sicurissimo tu mettilo mettilo ho sparato a casa è andata bene questa è di vostra sì facciamo qualcosa di la stella sono le mini missioni queste qua per chi non lo sapesse adesso vedrete io mi ricordo già cos'è che cos'è che succede qua l'ambulanza il gattino sta da cani questa questa era bella non si cura accarezzabile allora quindi serve un droga ciao è vero è vero non sembra far molto effetto come direbbero quelli dei pokemon non è molto efficace per sparare possiamo dire ho capito no ci serve allora cosa si faccia eh ma è per in realtà una cosa del dottore sì allora faccio dottore misturi misturi no aspetta ancora meglio veterinario veterinario proprio veterinario o pazzo pazzo vola e ho sentito un rumore che faceva dai ma è proprio mazzo allora la mentira quindi è ammalato che oggetto a me se adesso è giusto vabbè siamo opposto in questo cacchio deve essere un mal di denti ma allora ma allora fa schifo allora questo questa era ascoltata col cavolo ma che è rimasto lì raggiungi aggettivo morto chissà che ti fa perdere il livello comunque proviamo magari no no ok ambulanza meccanico meccanico il robot è rotto ci vuole un meccanico no allora aspetta ruba 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 hai rubato gli occhi che ladro che sei un ladro incallito no così lo rompi la vedi è d'accordo perdi il livello se lo rompi no poi facciamo meccanico meccanico un'altra volta va con gli occhi eh ma allora c'è stato no allora mettiamo un elettrauto elettrauto no elettricista elettricista dai tu serve sempre si funziona l'hai incazzato con te lascialo il meccanico che magari serve proprio a cacchio aspetta aspetta cos'è che è arrivato cos'è quel coso è rotta no non può aggiungere l'aggettivo la storia incompleta scrittura no pagina scrittura pagina mettiamo la dichiarazione di indipendenza chimile oggetto immagine perché l'immagine scusa immagina poi fotografia sta roto va bene è un po' grande metti scusa pagina pagina eppure fine pagina no metti scrittore scrittore oppure un panino dipende da cosa vuoi posso far servire un panino un genio adesso se ne va anche lo scrittore no aspetta che vorrei una cosa tipo scrittore morto boh ma è a posto anche il libro il libro mi raccogli attenzione johnny porata siamo del cazzo dei geni siamo dei geni si porta via anche il dottore che labbro livello completato questo è pazzesco ok adesso come salire allora qua c'è il clown aiutami aiutami a ridere di nuovo aggettivo no non funziona già provato no morto no morto no sennò comico 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 no aspetta comico malato no no comico si dice di che fai la comico mi sa che non c'è l'aggettivo satirico mangelo blablabla blablabla berlusconi blablabla ma che cavolo ma qua qua appaiono gli oggetti a cacchio aiutami no ti fa ritmare il livello perdiamo no magari no perché l'hai già fatta ma è successo niente no è morto non vedi comico comico satirico malato morto anche il comico malato vivo vivo è morto è vivo è morto ma è vivo cuore un aggettivo no no aspetta prima non vieno sapere cosa fare scusa arresta l'attacco cardiaco un poliziotto che viene lì arresta l'attacco un poliziotto magari funziona di nuovo che ti risolve il problema vediamo secondo no devi metterlo in aria ma che pistola ah no aspetta ho trovato defibrillatore shock morto ma hai già hai già risolto anche questo grazie al grazie al al poliziotto vedi che è sempre utile il poliziotto allora aspetta c'è una cosa il poliziotto no allora che è un oggetto fucile ma cosa cambia se ho l'arma ti ha messo una shotgun in mano io avrei fatto consegna oh 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 calma guarda aspetta aspetta io direi di salire per premio no perdi ruba io ho rubato la no in questo caso so io come risolvere il problema aspetta aspetta qua ci vuole una persona che ci aiuta di sicuro a risolvere il problema qua ci vuole no ma è morto è morto odino odino clicca odino no mettilo mettilo giù mettilo giù odino risolve sempre il problema eh ma odino dove serve un cazzo povero odino prendi una pozione prenditi una pozione che se no proprio vede il colore della tua squadra ok oggetto no auto prendiamo un po' su scrivere la rossa ma no facevi in auto blu e diri a posto no guarda come si fa ti spiego da professionisti si fa auto blu perchè lui è blu no auto blu berlusconi eccola non l'intendevo esattamente questa la carrozzina dell'esamine prenditi una pozione che hai poca vita vabbè gareggiamo vedi una pozione com'è che si fa eh ti crei una pozione quindi no ti fai te pozione ah ecco pozione perché voglio fare una cosa mi devi la faccia la super pozione ok adesso sono tornato in vita aspetta paolo ma poi scuola andiamo in posto se vuole ora voglio io bomba ma che chiamo mi è rubato il casco non se ne è neanche accorta ho dimenticato ciò che dovevo consegnare al trappianto lo so io lo so io cuore malato proprio per fargli stronzi ma malato chissà se si dice che va bene o no togli la è andato bene questa qui è la cicogna la cicogna le consegnare il bambino neonato aspetta morto vai prendi il bambino gettalo giù dal palazzo prendi il bambino prendi no dovevi prenderlo col mouse elimina no non ruba ma cazzo comunque ce l'abbiamo fatta no non abbiamo completato il livello semplicemente wolf ma porca troia ma non sai fare una minchia ah ottimo abbiamo ancora gli altri no ma noi vogliamo fare i figli e mostrarvi quali allora innanzitutto li mi diamo a mostrarla qua quali sono i più perché fa schifo quali sono i più grandi bug che ha questo gioco meraviglioso no ultima cosa poi chiudiamo il video allora innanzitutto questo qua non è un bug raster eggs macchina del tempo questo qua è eccezionale proprio che tu già gioia in tempo vedete tatatatatata e poi ci vogliamo mettere un jetpack joyride jetpack lottore poi com'è che ci ha vestiti tatatatatatata così possiamo risalire di qua e completare il livello ma che roba è ancora così comunque ragazzi a questo punto direi di concludere qua quindi per a tutti da Wolf e da Jacopi lasciate un like, commentate e iscrivetevi